Elettronica Service. Sistemi di sicurezza, antifurti e videosorveglianza. Viene a trovarci in Corso Mazzini 258 a Cava dei Tirreni nei pressi dello stadio comunale. Cavese Juve Stabia, la classica del calcio campano in Serie C, rischia di essere seguita sabato sera allo stadio da pochissimi spettatori. Ieri sera alla biblioteca a Vallone di Cava dei Tirreni, gli ultrasacquilotti hanno confermato in maniera ufficiale che in occasione del derby resteranno fuori dell'impianto per esprimere vicinanza verso i supporter di Castellammare di Stabia, ai quali sono state imposte delle restrizioni. Non le condividono in quanto, proprio nel rispetto della memoria di Catello Mari, tifosi stabiesi e metelliani hanno sotterrato da tempo l'ascia di guerra. Anche da parte gialloblu, pochissimi sostenitori potrebbero accedere a Lamberti. L'altra annosa questione, affrontata anche dagli amministratori comunali nelle scorse settimane, a tal proposito c'era presente alla biblioteca comunale Reugenio Canora, riguarda quella delle reti di sicurezza che infastidirebbero la visuale a molti abituali frequentatori della Sud e che verrebbero considerate delle misure superflue. I tifosi organizzati hanno annunciato l'avvio di una petizione con l'obiettivo di far rimuovere le reti davanti ad alcuni settori dello stadio Lamberti, in particolare la Sud, e la società metelliana ha solidarizzato con loro. Sentiamo le parole del noto tifoso della Sud, Antonio D'Amato, noto come Maradona. Non è incettabile dopo tanti anni che non si trovi una soluzione e soprattutto veniamo penalizzati, paghiamo un biglietto e non possiamo assistere allo spettacolo che è una partita. Uno stadio che dà sempre più l'immagine di un campo di concentramento. Questa sera partiamo con una petizione popolare, raccoglieremo firme e poi sperando di prenderne quando è più possibile. Sappiamo che questo solo non basta, però poi consegneremo a chi di dovere e vogliamo tenere atta l'attenzione. Anche noi, dopo tanti anni di... una società, una storia di cento anni che deve subire e deve tenere uno stadio così fatiscente, per noi anche da questo passano i cento anni della Cavese. Quindi siamo per l'abbattimento totale delle recensioni. Lei ha confermato ufficialmente stasera in questa sede che sabato sera gli Ultras resteranno fuori dalla curva per solidarietà verso quei molti tifosi della Juve Stabia che non avranno la possibilità di acquistare il tagliando. La curva resta fuori perché non era scontato che dopo tanti anni di partita da Cronaca Nere si è messo da parte determinate situazioni. Quindi questo è un lavoro che merita rispetto, che è un lavoro fatto sia dalla parte Ultras di Cava e siamo sicuri anche da Ultras di Castellammare. E quindi un questore, una prefettura, deve tenere a corrente certe storie perché noi dobbiamo dare valore a tutto quello che abbiamo passato nel bene e nel male con Castellammare. E soprattutto la figura di Catello merita rispetto.